Oggi proverò a essere un pochino più riassuntivo rispetto alla conferenza stampa dell'altro giorno con lo Sporting, ma là parlavano due tesserati alla Juventus, quindi Danilo e Massimiliano Allegri oggi invece ha parlato soltanto all'allenatore come in ogni conferenza stampa pre-partita, quindi abbiamo sicuramente meno parole da commentare e anche se vogliamo una partita meno sentita perché è una classica partita di Serie A contro una squadra onesta ma non è un big match come può essere il Sassuolo. in attesa di quella che sarà giovedì invece la partita della verità del verdetto che ci farà capire se potremmo andare a giocarci una semifinale di Europa League dopo tanti anni dall'ultima volta in attesa del sogno di arrivare in finale perché in questo momento il tifoso Juventino se deve pensare al trofeo da vincere in stagione pensa a quello da qui alla fine dell'anno per forza di cose ne sono rimasti due e la speranza è di riuscire a vincere addirittura due trofei che sono due trofei se vogliamo di secondo piano rispetto a campionato che è il massimo che puoi vincere in Italia e Champions League è il massimo che puoi vincere in Europa la stagione ci ha portato qui e mi sembrerebbe stupido snobbare questi due trofei perché non sono quegli altri quindi bisogna andarseli a prendere in ogni caso e cercare di migliorare la stagione ovviamente per me sarà invece una partita un po' più sentita perché domani sarò allo stadio quindi ci vediamo al Mappè io avrò anche il tour dello stadio del Sassuolo e quindi sarò lì un po' prima noi ci becchiamo là se c'è qualcuno che vuole fare due chiacchiere volentierissimo quindi per forza di cose domani non ci sarà la live reaction su Twitch ci saranno invece ovviamente tutti i contenuti del giorno secondo la normale scaletta di YouTube quindi domani il video pre partita in cui parliamo di informazioni in cui parliamo dell'avversario e alla sera il post partita classico e dato che vi sono piaciute alla mattina proverò a far uscire le pagelle nonostante tutto Allegri dice al momento posso dire che Ken non sarà disponibile per un fastidio al flessore gli altri ne andranno valutati nel pomeriggio ecco ci mancava no? un infortunio così volante di quelli che arrivano un affaticamento quello che però Ken ha questo fastidio al flessore quindi domani non sarà convocato d'accordo? sarebbe stato anche utile in realtà avere Ken domani per quanto mi riguarda dato che chiesa di Maria Vlaovic e Milik hanno fatto la partita giovedì Ken era l'unico che invece non l'aveva fatta giovedì la partita ha consumato energie tutti i calciatori sono in buona condizione fisica oggi valuterò chi far scendere in campo domani Paredes sta bene fisicamente non è pronto per giocare e questo tradotto mi sembra domani Paredes titolare quindi mi vado a vedere un bel match in cui Paredes in cabina di regia prova a distruggere tutti i giocatori del Sassuolo Pogba invece non è ancora pronto per giocare aperta e chiusa parentesi intendeva titolare quindi sfuma per me questo sogno del Pogback dal primo minuto peccato mi sarebbe piaciuto tanto però sappiamo bene che è stato convocato l'altro giorno si è fatto 5 minuti da farsi 5 minuti a giocare titolare ce ne passa me lo aspettavo lo immaginavo oggi parlerò con Scesni se è tranquillo e sereno domani viene in panchina per una giornata di recupero e riposo mi farebbe piacere vederlo lì in panchina tranquillo rilassato comunque a godersi la partita a godersi il momento lo spogliatoio senza particolare stress senza particolare ansia che probabilmente ha avvertito l'altra sera quindi un grosso bocca al lupo a Scesni sperando che domani possa essere non della partita ma comunque presente a reggimili insieme a tutti noi Perini in buona condizione è diventato un portiere importante ha fatto progressi e miglioramenti importanti è un portiere tra i più bravi che ci sono in circolazione ci dà affidabilità e presenza nella partita sono contento del lavoro svolto su di lui da parte di Claudio Filippi Bremer ha fatto tante partite aveva un po' di mal di gola ho scritto mal di gol negli appunti un po' di mal di gol nel caso ci sono Rugani e Bonucci Leo sta meglio rispetto alla settimana scorsa valuterò nel pomeriggio quindi vediamo se Bremer giocherà oppure avrà un po' di riposo Danilo ha riposato l'altro giorno con la Lazio vediamo anche Alexandro che non gli è stato chiesto all'interno della conferenza stampa ma l'altro giorno non era stato convocato per la partita contro lo Sport in Lisbona quindi un po' di rotazioni sicuramente in porta dove giocherà Perin probabilmente in difesa diciamo così e secondo me anche davanti avere poi l'ha fatto intendere frate si è un giocatore del Sassuolo difficile dare giudizi però andai a vedere una partita del Monza un match di Serie B e di Siegagliani e quello chi è? si vedeva che il ragazzo aveva buone qualità il Sassuolo è tecnicamente molto forte sono anche in buona condizione atletica Averona ha perso perché il calcio l'ha inventato il diavolo era una partita praticamente chiusa è inspiegabile in realtà il Sassuolo vinceva per un gol a zero ne ha presi due nel finale di solito quando escono un gol di vantaggio succede non è che sia così è abbastanza comune come cosa non cambia il fatto che sono in buona condizione hanno giocato una buona partita tecnica e fisica serve tornare a vincere dato che a Roma abbiamo perso e sono infatti due trasferte di fila Roma fuori Sassuolo fuori poi avremo il Napoli in casa e il Bologna fuori ma con in mezzo le coppe Allegre non cita il ricorso la sentenza del CONI del 19 di aprile chiuderemo a Bologna una squadra che sta facendo molto bene intanto domani affrontiamo una squadra tosta abbiamo l'Atalanta a 4 punti sulla classifica che viene scritta dall'altra parte l'Alazio vincendo ci ha superato nella classifica di campo serve quindi tornare a vincere per essere secondi noi abbiamo un altro obiettivo migliorare la posizione in classifica dell'anno scorso ci sono 9 partite 27 punti il cammino è ancora lungo gli obiettivi sono ben chiari io credo che avere come obiettivo superare il posizionamento dello scorso anno sia positivo per i giocatori della Juventus in questo momento traduco dato che il campionato chiedo scusa lo vincerà il Napoli con 99.9% di probabilità non vorrei mai che i giocatori della Juventus arrivati a questo punto iniziassero a pensare vabbè il campionato è andato noi comunque abbiamo pure 15 punti che magari il 19 ci li ridanno al massimo mal che vada arrivi secondo c'è la Coppa Italia c'è l'Europa League quelli sono i miei obiettivi il campionato fa poi lo stesso ve lo dico proprio in dialetto fa poi lo stesso no perché ovviamente la Juventus deve onorare ogni competizione quindi dato che Allegri non aveva praticamente mai parlato se non una volta disfuggita di questo obiettivo di migliorare la posizione in classifica dell'anno scorso credo che sia stato giusto ribadirlo oggi per dare anche un segnale allo spogliatoio ai ragazzi noi comunque dobbiamo migliorare quella posizione lì l'anno scorso è andata così siamo arrivati quarti d'accordo quest'anno cerchiamo di migliorare quella posizione credo che sia assolutamente giusto intanto cercheremo di fare una bella partita e fare dei punti col Sassuolo giovedì andiamo a giocare una bella partita a Lisbona è già due volte bella partita speriamo perché l'altro giorno con lo Sporting tutto è stato tranne che bella non andiamo tanto in là abbiamo tante partite serve a riempire maggio con altre gare semifinale di Europa League e finale di Coppa Italia la cosa più importante è fare un passo alla volta e qua Allegri invece torna dato che prima invece aveva parlato e dopo facciamo brighiamo andiamo lì facciamo quell'altra c'è questo da fare adesso un passo alla volta è sempre bello vedere come Allegri cambi anche proprio il focus a seconda di se gli chiedono gli altri si fa un passo alla volta se lo dice lui si guarda più là è incredibile tipo discorso l'altro giorno gli scesi nel diavolo mi ha mi ha fatto morire da ridere poi parlano di Paolo Sosa animatore della Salernitana dato che aveva detto che la Juventus difficilmente sarebbe passata con lo Sporting per via del modo di giocare della Juve bla 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 e Allegri dice rispetto e ascolto l'opinione di tutti io faccio già fatica a vedere la mia squadra non posso dare consigli e non è carino consigliare ad altri allenatori cosa fare ci sono allenatori molto bravi in giro in grado di vedere la propria squadra e anche quella degli altri ora credo che credo che questa sia stata una frecciatina forse anche doverosa nel senso che probabilmente questa cosa da Allegri ha dato fastidio ed oggettivamente capisco perché non credo che sia carino parlare del lavoro degli altri andando a giudicare come si muovano loro sul loro lavoro cioè ognuno è libero di lavorare come vuole e se un collega va a fare una considerazione magari antipatica che può aver dato fastidio e ci sta credo che sia legittimo che chi invece l'ha ricevuta voglia cercare di dire ragazzi va bene d'accordo però anche se guardi in casa tua va bene lo stesso quindi credo che sia stata una risposta elegante da parte di Allegri a una critica che probabilmente gli è rimasta qua vediamo domani per Berardi ma difficilmente Desciglio sarà a disposizione la gamba ieri non la sentiva libera ci saranno dei ragazzi dell'Under 23 pronti per giocare vediamo vediamo chi potrà essere convocato in quella posizione a me viene sempre in mente barbieri ma non so se poi non credo nemmeno alla primo minuto però vediamo e poi gli fa una domanda su Mancini e allora si mette a ridere e dice non è che devo essere d'accordo con tutti gli altri fortunatamente parlo poco è uno dei pochi pregi che ho in effetti Allegri è uno che a parte ovviamente quando è obbligato da contratti quindi esclusive conferenze stampa pre partita post partita difficilmente uno che ha voglia di parlare infatti io ho ancora qua l'intervista che ha fatto con sconcerti quando ancora sconcerti era tra di noi nella prima metà di stagione in cui andava a dire cose che poteva benissimo trattenere tenersi dentro perché non è stata una gran bella figura però effettivamente Allegri è uno che tolte queste cose qui solitamente non è uno che ha voglia di parlare anche il fatto che non abbia social aiuta a trattenere queste citazioni che poi vengono riportate sui giornali quindi è abbastanza vero e lui dice anche qua secondo me giustamente è normale lui è il tecnico della nazionale io non so quanti italiani giochino meno non è una cosa che mi interessa sinceramente dice Massimiliano Allegri lui sta facendo un ottimo lavoro con la nazionale e cerca di concludere qua questo discorso Vlaovic ha giocato 30 minuti l'altro giorno a Roma 60 domani credo che sarà della partita immagino quindi titolare Vlaovic per preservare Milik titolare giovedì secondo me sì però vediamo Di Maria devo vedere 90 minuti a Roma e 85 praticamente l'altro giorno uscito a 5 dalla fine temo di non vedere Di Maria domani mi dispiacerebbe tanto Chiesa vediamo come sta dopo 90 minuti e credo di non vedere nemmeno Chiesa e mi dispiacerebbe tanto per quello che dico che Ken sarebbe stato molto utile che sia Vlaovic consule a supporto nel 3511 potrebbe essere così ma vediamo credo che Chiesa abbia dei margini di miglioramento all'interno della partita a qualità difficile da trovare in altri giocatori Milik sta meglio ha giocato spezzoni ma è un giocatore affidabile l'importante è capire il momento l'ho detto anche l'altro giorno ai ragazzi in questo momento qui c'è da stringere la cinghia e ottenere risultati siamo nel momento bello e importante della stagione e adesso si fa la differenza questo momento della stagione è quello che poi ti fa capire come passerà la storia hai vinto o non hai vinto come sei arrivato nel finale per quello che vi dicevo anche l'altro giorno porca vacca ma è possibile che arriviamo e facciamo delle partite come quella dell'altro giorno con lo sporting nel finale di stagione significa che c'è qualcosa che non va perché nel finale di stagione tu dovresti essere tac tac scattante avresti la necessità di essere nel miglior momento fisico magari non nel momento migliore mentale secondo me la Juve oggi non è al top né dal punto di vista fisico né dal punto di vista mentale bisognerà lavorarci in queste partite qua perché questo aprile è veramente importante ieri ha fatto 20 minuti Pogba ha fatto ieri 20 minuti allenamento con la palla soprattutto nella parte intensa dell'allenamento oggi vedremo come sta ovviamente può solo migliorare può diventare un giocatore importante anche solo per 20-30 minuti all'interno della partita se non da titolare da qui a fine campionato e immaginavamo che che Pogba avrebbe ricoperto questo per rigorete ruolo passatemi il termine all'interno della Rosa da qui a fine stagione perché ormai la stagione di Pogba è bella che è andata e poi parlano della penalizzazione e gli dicono ma in vista del 19 cosa ti aspetti come la vive la squadra in uno spogliatoio e lui dice al 19 è venuto in mente Bonucci e lui il 19 è proprio meraviglioso per concludere la conferenza stampa lo viviamo serenamente ormai ci siamo fatti la corassa siamo concentrati su partite singole e obiettivi che tra l'altro questa è una cosa che va incompleta sono cose opposte se sei concentrato sulle partite singole non puoi essere concentrato sugli obiettivi perché gli obiettivi sono un insieme collettivo di partite che ti portano a raggiungere i risultati è tutto meraviglioso siamo a 4 punti dell'Atalanta al netto dei 15 punti abbiamo squadre davanti da prendere e lasciare dietro tutte le altre squadre che ci inseguono come il Bologna 27 punti sono tanti da quella fine siamo fiduciosi e lavoriamo per migliorare tutto questa era la conferenza stampa di Massimiliano Allegri questa era un'analisi che vi voglio portare oggi sulle sue parole si è parlato veramente poco in realtà della partita di domani una sorta di resoconto fisico dei giocatori quindi traduzione secondo me domani ci sarà un folto turnover il Milan addirittura si parla di 8-9 giocatori di movimento cambiati rispetto alla partita col Napoli siamo in mezzo alle coppe europee da sempre è stato così speriamo che la Juve comunque domani possa portare a casa i tre punti a presto